Cari professoresse, cari professori, devo dire che con un po' di rimpianto siamo qui anziché essere in presenza come era negli anni passati, ma insomma dobbiamo accettare l'idea che il Covid sta cambiando la nostra vita, come sta cambiando tutta una serie di regole proprio della nostra società. E in realtà anche l'argomento di cui vi voglio parlare oggi è proprio un po' nel segno, nel contesto del cambiamento. Questo microbiota infatti di cui parleremo oggi è veramente un qualche cosa che ha cambiato molti aspetti della biologia e anche della medicina. E quindi credo che anche se magari non trovate subito una perfetta corrispondenza con i programmi scolastici, tuttavia spero che ci siano un po' di spunti di interesse. E infatti quello di cui vorrei parlarvi oggi è proprio un problema in generale che parte proprio dall'uso delle parole e dal far vedere quello che è il ruolo della tecnologia e poi coglie degli aspetti della medicina di oggi, degli aspetti della biologia vegetale. E poi anche parla di problemi biologici generali come l'evoluzione, quindi spero davvero che ci siano degli spunti che poi a lezione vi possano essere utili per attirare l'attenzione di giovani liceali. E in primo luogo partirei proprio per darvi l'idea di questo microbiota che rappresenta una vera rivoluzione nella biologia, partirei quindi con un breve filmato che adesso vediamo e che è un filmato in cui troverete un linguaggio un po' veloce proprio perché la traduttrice, la dottoressa Franzinetti ha dovuto associare le parole inglesi a quello che è l'immagine che vedete. Ecco, adesso diamo uno sguardo a questo breve filmato. I microbioti sono comunità di microrganismi che vivono in un determinato ambiente, ogni terreno, ogni nicchia del nostro pianeta ha il suo microbiota, l'oceano, l'atmosfera hanno il loro, il nostro corpo, la pelle, la bocca e l'intestino hanno il loro microbiota, ovunque il corpo entra in contatto col mondo esterno. Tutte le forme di vita su questo pianeta si sono evolute insieme e quindi abbiamo bisogno dei microbi così come loro hanno bisogno di noi e ci aiutano a degradare le sostanze nutritive, a produrre vitamine ed enzimi essenziali nel nostro sistema digerente. Si valuta che vi siano più di mille tipi di microrganismi che vivono nel nostro corpo e che contengano più di 300 volte il numero di geni di quelli delle cellule umane. Sommando i microrganismi nel nostro corpo in un'unica massa formerebbero una palla di circa 3 kg rispetto al 1,5 kg del cervello. Ciascuno di noi ha dentro di sé un'impronta unica del microbiota. Il microbiota incomincia alla nascita, dipende dalla dieta, da ciò da cui siamo esposti, da dove viviamo in alcuni casi, può anche influenzare l'umore e il comportamento. Gli scienziati credono che i batteri e gli altri microbi del nostro corpo influenzino la chimica del cervello attraverso diverse modalità. Per esempio alcuni esperimenti hanno dimostrato che l'apprendimento, la memoria e il comportamento sociale di topolini allevati in ambienti sterili è diverso dall'altri. Gli scienziati non sono ancora in grado di decifrare a pieno il funzionamento dei microbiomi, sebbene siano in grado di catalogare con estrema precisione velocemente il nostro microbiota, ma non sanno spiegare ancora come queste comunità di microrganismi intergagiscano le une con le altre e con gli ambienti che le circondano. Per sviluppare gli strumenti necessari allo studio del funzionamento delle comunità microbiche abbiamo bisogno di un approccio che si avvalga di conoscenze multidisciplinare. Abbiamo bisogno di nuove tecnologie e di metodi per decifrare i principi che regolano i microbioti, siano essi presenti dentro una singola cellula su scala planetaria. Capire meglio il loro funzionamento avrebbe un impatto positivo sul modo in cui interagiamo col mondo naturale. Ci sono potenziali applicazioni in agricoltura, produttività dei raccolti, clima, circo del carbonio, energia sostenibile, biocarburante, salute e medicine, offrendo nuove cure o terapia per le malattie. Solo ora cominciamo a capire la gamma delle nuove possibilità che i microbi ci possono offrire. C'è un mondo microbico invisibile e neanche sapevamo esistesse. E stiamo per gettare uno sguardo su questa enorme ma invisibile parte dell'ambiente e del corpo. Le comunità dei microrganismi saranno anche piccole, ma sono molto più tanti. Come si dice, sono le cose piccole a fare una grossa differenza. Abbiamo già sollevato alcune vostre curiosità e soltanto per dirvi come in realtà è veramente questo termine, questo microbiota al centro di grandi interesse, provate a guardare queste piccole vignette che compaiono molto spesso sui giornali scientifici in cui si dice vuoi diventare famoso? Non c'è niente da fare, devi occuparti del microbiota. E in primo luogo quello da cui vorrei partire sarà un qualcosa di molto scolastico e quindi di arrivare subito, di partire subito con delle definizioni. Perché voi avrete già sentito come nel filmato si utilizzino delle parole diverse. Si parla di microbiota ma anche di microbioma. E quindi qual è la differenza? Allora per microbiota noi intendiamo fondamentalmente una descrizione della diversità delle comunità batteriche o di microrganismi che sono presenti in una data nicchia. Quindi descrive la biodiversità. Mentre invece col termine di microbioma, con quel termine del bioma, ci dà la descrizione del materiale genetico che è presente nella popolazione. E poi invece col termine di metagenoma invece si intende proprio il complesso del materiale genetico che c'è in un determinato campione in cui ci possono essere presenti proprio dei genomi, molti genomi diversi che appartengono a individui diversi. Quindi sono delle parole che sono correlate ma ognuna di esse ha un suo preciso significato. E tanto per dire di nuovo un qualcosa di molto banale ma che può essere utile anche agli studenti, può essere interessante ricordare che cosa va sotto il termine di microrganismo. Quello che noi diciamo non si vede ad occhio nudo, che quindi è al di sotto del limite di risoluzione del nostro occhio umano. Che c'è sotto? Virus, batteri, funghi, protisti, in genere sono per lo più organismi unicellulari. Ma attenzione, dobbiamo naturalmente essere consapevoli del fatto che i virus non sono cellule. Il nostro Covid ce l'ha insegnato benissimo. E che anche i funghi possono essere macroscopici. Guardate lì un tartufo che pesa un 3-4 etti, un magnifico esemplare. Allora questo è sicuramente macroscopico ma è dovuto al fatto che c'è un'aggregazione di IFE, quindi di elementi non visibili microscopici. Allora da che cosa partiamo? Partiamo quindi da questo concetto del secondo genoma. E come vi dicevo, qual è già un grosso cambiamento? Che l'avere capito che cos'è questo microbioma, o meglio cercare di spiegarlo, ci fa portare a un nuovo termine, al termine di olobionte, che è una parola anche questa nuova che viene adesso molto usata. Perché pensiamo un momento, se noi diciamo, e lo vedete in questa bella immagine molto descrittiva, che fa vedere la persona che riflette su se stessa che è tutta ricca di questi microrganismi e che questi microrganismi possono essere dieci volte tanto le cellule umane. E se poi andiamo al numero dei geni, questo rapporto diventa ancora più alto. Per ogni gene umano ci sono almeno cento geni di questi microrganismi. Allora, al di là dei numeri che possono variare a seconda delle analisi, questo concetto di secondo genoma porta a un'idea nuova. Ma allora dov'è l'uomo in sé, la persona, l'individuo umano? È il dato soltanto dalle cellule umane o da quel complesso cellule umane, cellule del suo microbiota? E quindi proprio questo spiega il termine olobionte che individua il tutto, individua la complessità. Ma questo, attenzione, non si ferma solo all'uomo, perché anche le piante hanno un loro microbiota. E quindi vediamo come c'è un passaggio molto interessante per cui dalle radici al cibo ognuna di queste tappe della filiera alimentare è caratterizzata da un suo microbiota. Ma anche i funghi hanno un microbiota. Ripensate a quel tartufo bianco di alba che vi ho fatto vedere prima. In mezzo alle diverse ife ci sono centinaia, migliaia di batteri che proliferano. Quindi la domanda è ma perché solo adesso ci poniamo questo problema del microbiota? Bene, quello che vorrò farvi vedere è come questo concetto nuovo che porta con sé un avanzamento o comunque un forte cambiamento nella biologia è dovuto da dei cambiamenti tecnologici. E quindi dovremo proprio capire come tutta una serie di tecnologie hanno permesso lo sviluppo di questi nuovi concetti legati al microbiota. Ma provate a guardare anche l'impatto sulla comunità scientifica. In questo grafico voi vedete come il termine microbiota compare più o meno nei lavori scientifici a partire dal 2010. Quindi in dieci anni c'è stata una crescita esponenziale di lavori che citano, che mettono quindi come parola chiave microbiota o microbioma. Quindi è veramente al centro dell'attenzione della ricerca scientifica. E vi dicevo tutto parte diciamo grosso modo dal 2010, quindi è un campo del sapere veramente recente proprio perché c'è un avanzamento tecnologico. Allora proviamo a vedere che cosa sono quindi proprio soltanto con un paio di parole, di diapositive che cosa sono queste tecniche omiche. Sono quelle che permettono di sequenziare il DNA che è presente in un determinato ambiente. Quindi può essere come ambiente lo spazio, il suolo, l'acqua oppure un tessuto del corpo umano, un pezzo di un determinato organo ad esempio. Quindi cosa si fa? Che da quel piccolo prelievo, da quel piccolo campionamento che viene quindi da un ambiente naturale, si estrae il DNA. Il DNA viene sequenziato seguendo delle tecnologie differenti e i vari dati vengono quindi interpretati e letti utilizzando tutta una serie di informazioni che ci sono nei grossi database. E quindi cosa abbiamo? Degli strumenti per decifrare la complessità dei microbi non visibili quindi che sono presenti anche se questi non sono coltivabili. Ecco questo è di nuovo il punto di volta e la novità di questo tipo di ricerca. Per moltissimi anni noi ovviamente sapevamo benissimo che nel nostro corpo ci sono microrganismi, che il suolo è ricchissimo di microrganismi, ma tutto questo passava sul concetto del coltivabile, vale dire doveva esserci fatta, doveva essere fatto un campionamento e i microrganismi presenti da quel determinato campione dovevano essere piastrati, messi su dei mezzi di cultura differenti e poi quindi si vedeva che cosa veniva isolato e quello veniva studiato e di quello veniva anche studiato il DNA, il genoma e così via. Ma era tutto basato sul concetto del coltivabile, mentre invece quello che è il grande salto adesso è che si studia tutta la comunità microbica indipendentemente dal fatto che sia coltivabile perché il target non è l'individuo che si coltiva ma è il suo DNA. Quindi le nostre informazioni sono informazioni che vengono proprio dalla firma del DNA che permette di identificare un determinato microrganismo e che qui indipendentemente dal fatto che noi non l'abbiamo in cultura pura, noi abbiamo solo la sequenza e quindi in base a questo però noi possiamo rispondere a domande molto interessanti, possiamo quindi chiaramente rispondere alla domanda del chi c'è, ma anche in base a tutti i discorsi e ai dati che già abbiamo sulle sequenze genomiche di moltissimi batteri coltivabili ma anche non coltivabili, noi possiamo rispondere alla domanda quali potenzialità ha in base al suo genoma quel determinato microrganismo, ma anche che cosa sta facendo in quel momento se noi andiamo a studiare il suo RNA, quindi i suoi trascritti o le sue proteine o i suoi metaboliti. Quindi abbiamo tutta una serie di potenzialità senza più la strettoia dell'avere l'organismo puramente in cultura pura presente in un tubo o in una piastra. Quindi tutto questo ha rappresentato veramente una rivoluzione e ha aperto tutta una serie di nuove domande in biologia su cui vedremo effettivamente cercare di dare delle risposte, ad esempio dei problemi legati all'evoluzione partendo proprio dall'evoluzione della cellula eucariotica. Se vi ricordate ci sarà poi una diapositiva che magari vi ricorda questo concetto. La cellula eucariotica è il prodotto di una serie di processi di simbiosi che legano la presenza di una cellula pro-eucariotica con dei determinati batteri. Ma l'altro problema molto importante è quello che già vi avevo sollevato parlando dell'olobionte. Qual è il confine dell'individualità? Se un individuo è un mix di cellule non omogenee a che livello avviene la selezione, avviene l'evoluzione. Dove opera proprio l'evoluzione in termini darwiniani? Sull'individuo, pensiamo solo sulle cellule umane o sull'olobionte che è dato dall'individuo più i suoi batteri. E poi ancora, come viene il riconoscimento del self, del sé rispetto al fuori di sé? E quindi come avviene la regolazione del sistema immunitario in base al concetto del microbiota? Quindi vediamo che sono domande veramente molto nuove e che hanno cambiato la biologia. Quindi per partire e per fare quindi un primo punto fermo, diciamo il microbiota è sicuramente un parametro fondamentale che caratterizza la salute sia delle piante, sia dell'ambiente, sia dell'uomo. E quindi partirei con alcune diapositive per farvi vedere proprio in modo molto superficiale, un primo flash di quello che possiamo dire quando parliamo del microbiota dell'uomo. Eccoci allora con una prima diapositiva che vi fa vedere innanzitutto una enorme folla di microrganismi che tappezzano le nostre cavità interne e in effetti dopo circa diciamo sette otto anni di studio abbiamo imparato e l'avete già sentito anche nel filmato che ogni individuo ha la propria impronta batterica. Vale dire c'è un profilo che è un profilo sia legato alla specie come vedremo sia anche proprio legato all'individuo e quindi questo profilo diciamo ha un core che è collettivo e che viene condiviso con gli altri individui della specie o della popolazione ma poi invece ci sono tutta una serie di variabilità che sono proprio legate all'individuo. Quali sono i principali microrganismi che sono tipici dell'uomo ma sicuramente sono questi bacteroidetes, i firmicutes che rappresentano quasi il 90 per cento delle categorie dei taxa batterici che sono presenti ma poi ci sono anche dei bifidobatteria, dei protobatteria, dei lactobacilli, degli streptococchi e così via. Ma è quindi anche interessante come vedremo che c'è una notevole diversità nelle diverse micchie come vedremo perché è proprio nel colon dove c'è la massima densità di microrganismi. Allora vediamo come e quando sono partite queste prime analisi. Uno dei primi progetti internazionali partito è questo progetto americano che aveva proprio lo scopo di fare una mappa, una mappa di conoscenza dei microbi dei nostri intestini e quindi sono stati raccolti moltissimi campioni fecali e su queste sono state fatte le prime analisi. Come vedete nella schema a torta sono rappresentate le categorie più importanti che corrispondono più o meno a quei due gruppi che vi ho già citato prima dei firmicutes e dei bacteroidetes. ma la cosa interessante e la vediamo meglio adesso che il progetto è finito è che questo progetto che è poi finito diciamo nel 2017 quindi è andato avanti per quattro anni ha evidenziato bene le diverse micchie in cui si trovano questi batteri. Quindi dal naso a quelli che si trovano nella bocca e quindi hanno già evidenziato le differenze che ci sono sul palato rispetto a quelli che ci sono sulla lingua. Ognuno proprio ha la sua nicchia. Esiste proprio una sorta di geografia per tutte queste diverse nicchie. E poi sulla pelle ci sono delle comunità molto particolari, molto specifiche che danno proprio una sorta di fingerprint dell'individuo. E poi ovviamente ci sono tutti questi microbi intestinali che come vi dicevo sono quelli che raggiungono la massima densità di popolazione a livello del colon. E poi ancora c'è il microbiota vaginale che è estremamente importante perché come vi farò vedere in una diapositiva è quello che proprio poi dà un legame madre neonato. E quindi e oltre questo dobbiamo ricordare che nell'uomo oltre che i batteri abbiamo poi funghi, virus, quindi siamo siamo super popolati. E quello che vi appunto vi dicevo è che è estremamente interessante questo concetto del trasferimento del primo microbiota, un primo core di batteri dalla madre al figlio durante il parto. Infatti l'idea è che effettivamente il bambino teoricamente dovrebbe nascere sterile, senza microbiota ma in realtà già al momento del parto quando c'è proprio l'attraversamento del canale avviene già un primo trasferimento di microrganismi dalla madre al bambino. E in questo caso volevo farvi vedere un collega italiano che ha fatto dei bellissimi lavori in questo settore si chiama Nicola Segata e Nicola in realtà è un informatico. E quindi che cosa possiamo dire? che effettivamente questo studio, questi tipi di studi, come sono basati? Sono degli studi fortemente interdisciplinari perché sono l'incrocio tra medicina, ecologia, microbiologia ma anche ovviamente statistica e quindi i bioinformatici sono straordinariamente importanti e sono proprio diciamo tra gli attori principali di questo tipo di studio. Perché da una parte è sicuramente uno studio ecologico quando andiamo a vedere la biodiversità che è presente in un determinato ambiente ma poi ancora ovviamente questo deve essere letto alla luce di tutte le conoscenze specifiche che siano la medicina o siano l'agronomia o la biologia vegetale. Quindi allora che cosa sono i principali concetti su cui siamo arrivati finora? Che abbiamo visto che sicuramente c'è un processo di evoluzione a partire dal concetto della cellula eucariotica e qui vi rimetto il famoso schema della Lynn Margulis che sicuramente ricorderete che ci dice che quindi una cellula ospite pre-eucariotica è in grado di invaginare, di portare al suo interno per dei processi di endosimbiosi dei batteri che sono correlati con un processo con dei meccanismi aerobico e che quindi poi questo batterio si trasformerà nell'intocondrio mentre invece dei cianobatteri che sono in grado di fare la fotosintesi vengono incorporati all'interno di questa cellula diciamo progentrice della cellula eucariotica e si trasformeranno poi nei cloroplasti. Quindi vediamo che effettivamente questo concetto è interessante che la cellula eucariotica è come già una piccola comunità di microbiotica in miniatura. Il secondo punto che abbiamo visto è che queste comunità microbiche sono associate alle superfici e ai tessuti interni di tutti gli eucarioti, queste comunità variano e sicuramente da un punto di vista evolutivo noi possiamo dire che aumentano la variabilità individuale perché rappresentano un altro carattere. Allora questo ci pone un discorso abbastanza interessante, possiamo dire ma si può fare uno studio di quello che era il microbiota dei nostri antenati. Bene questo è veramente molto interessante, di nuovo le tecniche di sequenziamento che si sono molto raffinate negli ultimi anni e permettono quindi di studiare anche il DNA di materiale fossile, ci ha permesso di studiare degli escrementi fossilizzati, il tartaro dentale in materiale recuperato dal passato e quindi cos'è stato visto? È stato visto che effettivamente il microbiota umano è cambiato durante l'evoluzione e quindi i campioni del tartaro di resti di Neandertal dimostrano che c'è già nel passato, c'era già una relazione tra quella che era la dieta degli antichi Neandertaliani cacciatori rispetto poi a dei antenati del passato che invece già erano diventati raccoglitori. Infatti questi esemplari non carnivori hanno un microbiota che è più simile alla microbiota degli scimpanzei attuali. Ma volevo proprio farvi vedere dei dati molto interessanti che sono stati recentemente pubblicati studiando, voi vi ricordate il famoso uomo delle nevi che è stato studiato, che è stato trovato una decina di anni fa forse nella zona del Sottirolo e che è conservato vicino a Bolzano e questo è Zli che risale quindi diciamo circa 3.000 anni fa in età del rame, bene è stato oggetto di tutta una serie di studi per capire com'era il suo microbiota ed è effettivamente interessante perché è risultato che già erano presenti una serie di microrganismi che sono presenti tuttora proprio come firme del nostro microbiota come un Clostridium e un Pseudomonas e poi anche sono stati addirittura sequenziati 5 entieri genomi di batteri che di nuovo sono molto, corrispondono quelli che sono presenti nella nostra dieta attuale, nel nostro microbiota attuale. Per cui l'idea è che ci sia sicuramente un core di batteri che si è conservato durante l'evoluzione e questa diapositiva un po' complessa ci dà un quadro un po' più diciamo generale perché ci fa vedere come si colloca il microbiota umano rispetto al microbiota degli altri organismi. Quindi se voi partite dalla prima diapositiva, adesso qui forse non vedo bene il diciamo non ho un pointer ma mi faccio vedere nella diapositiva A, nella parte A della diapositiva in alto quindi sulla sinistra sono rappresentati microbiota di diversi popolazioni che vivono in ambienti diversi, hanno delle culture differenti e vedete che c'è una sostanziale diversità, quel concetto che vi dicevo già prima che c'è proprio una firma di individualità. Ma se noi confrontiamo questi diversi genomi umani con il microbiota sempre, con il microbiota che è presente in primati e questo lo vediamo nel B, vediamo che c'è già una certa qual somiglianza e in realtà il microbiota diciamo delle popolazioni umane viene già raggruppato rispetto a quello delle scimmie. Ma se lo vediamo quindi nel riquadro C, confrontiamo il microbiota degli umani su una scala molto più ampia, quella di altri mammiferi oppure di uccelli o di pesci o di rettili o anche di pipistrelli, li vediamo in basso sulla destra, vediamo che a questo punto le differenze del microbiota umano praticamente spariscono perché vengono tutte raggruppate, molto molto diversificate rispetto a quello degli altri organismi viventi. Quindi che cosa vediamo? Vediamo che c'è effettivamente un nuovo parametro che noi possiamo considerare nel contesto dell'evoluzione, vuole dire il microbiota marca proprio anche chiaramente queste differenze che sono legate ai diversi gruppi degli organismi viventi. Possiamo quindi, quindi diciamo questo diventa veramente un concetto molto importante in termini evolutivi. Ma se noi passiamo a questo punto a considerare le principali funzioni che sono associate al microbiota nell'uomo, allora possiamo di nuovo anche qui avere una serie di scale e di suggerimenti diversi come vengono da numero veramente enorme di studi che si sta accumulando su questo. Che cosa vedete già subito come prima immagine? Che il microbiota cambia nell'uomo a seconda delle sue fasi della vita, per cui il bambino come abbiamo visto il neonato ha un determinato microbiota ma poi questo cambia man mano che cambia la sua dieta, quindi dal latte materno passa a un altro tipo di dieta, cambia quando durante la pubertà, l'adolescenza, all'età adulta e infine ancora completamente diverso in una persona anziana. Ma che cosa succede? succede quindi che anche le funzioni hanno un significato diverso a seconda del periodo del ciclo della vita, per cui abbiamo dei momenti in cui il microbiota diventa veramente un importante fattore di salute, in altre condizioni invece è un fattore importante di quello che noi definiamo il benessere generale e vediamo infatti che questi significati possono effettivamente variare molto, per cui ritornando quindi alla prima fase, alla fase sia neonatale che quello dei primi mesi di crescita, non abbiamo dubbio che il microbiota ha un ruolo fondamentale sia proprio nel colonizzare quelle diverse micchie che abbiamo visto prima, sia anche proprio nell'aiutare i processi di acquisizione di nutrienti che vedremo è proprio il primo principale ruolo del nostro microbiota. nella fase diciamo di crescita nella fase adolescenziale allora vediamo che sicuramente il microbiota aiuta a sviluppare un sistema immunitario più efficiente e questo è assolutamente cruciale al momento di una pandemia come la nostra in questo momento e anche a controllare quindi l'invasione dei patogeni. interessante osservare come nella fase matura si tende a dire che il microbiota può essere molto importante come un fattore che controlla la fertilità diciamo indirettamente o perché migliora in termini positivi lo stato nutrizionale quindi rende uno stato diciamo di maggior benessere quindi potenzialmente più fertile o viceversa se invece è carente e quindi porta uno stato di minore benessere e sicuramente anche nella fase terminale della vita il microbiota continua a svolgere questa funzione generica di controllo del benessere ma poi anche sono invece associati e qui direi che le relazioni sono più correlative che di causa vero e proprio con una serie di malattie che sono correlate ad esempio con la produzione di eczemi la presenza di eventi asmatici ma soprattutto nella fase diciamo della vecchiaia il microbiota è stato correlato con alcune malattie molto più gravi dall'Alzheimer all'osteoporosi e quindi effettivamente vediamo come ci sia la possibilità di costruire una sorta di catalogo che correla continuo a dire i termini sono più corretti veramente appunto ancora un discorso di correlazione le diverse fasi della vita con uno stato o di benessere o la presenza o l'assenza di alcune malattie quindi ricapitolando se noi volessimo dire a questo punto quali sono le attività principali del microbiota rispetto all'uomo allora non abbiamo dubbi del dire ci sono tre grandi categorie di ruoli e di funzioni metaboliche allora innanzitutto questi microrganismi includono producono vitamine che l'uomo non può sintetizzare pensiamo ad esempio a una vitamina B12 sono coinvolti nella trasformazione di acidi biliari nella fermentazione di substrati produzione di acidi grassi a catena corta ma anche particolari meccanismi del metabolismo minerale come ad esempio il calcio e il magnesio produzione di fattori che regolano la motilità intestinale quindi sicuramente un processo metabolico molto importante il secondo punto è invece un fattore più legato alla protezione e quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che di nuovo viene suggerito che il microbiota possa aumentare la resistenza ad alcune specie patogene possa attivare quella che è la cosiddetta immunità innata o adattativa e regolando tutta una serie di processi infiammatori quindi abbassando il livello di infiammazione e poi ancora sono state anche suggerite delle funzioni strutturali e come se effettivamente il microbiota potesse stimolare la proliferazione e la differenziazione, la regolazione di cellule epiteliali stimolare lo sviluppo dei villi e cripte intestinali sicuramente regolare la produzione di muco e questo diciamo è un dato meglio diciamo dimostrato quindi funzioni molto differenti ripeto funzioni metaboliche funzioni protettive funzioni anche proprio strutturali legate quindi allo sviluppo allora vi faccio vedere qui una diapositiva che ho preso da una presentazione del professor Guido Forni che si chiede ma che tipo di relazione c'è tra i microbi che colonizzano come abbiamo visto il nostro microbiota e noi stessi le cellule umane allora attenzione di tutta questa grande variabilità di microrganismi sicuramente la maggior parte di questi è commensale molti sono mutualisti vale dire hanno un effetto benefico sicuramente perché svolgono quei ruoli che vi ho elencato prima alcuni possono essere patogeni opportunisti vale dire diventano patogeni in determinate condizioni di carenza di abbassamento delle nostre difese ma alcuni possono essere veramente patogeni quindi è chiaro che dobbiamo sempre essere consapevoli che questo microbiota che in condizioni normali svolge tutte queste funzioni può tuttavia avere uno shift e diventare un microbiota che può anche avere una componente di pericolo tra virgolette e quindi le famose cellule umane debbono sempre avere attivi dei meccanismi di contenimento e di difesa quindi come dire è un'interazione stabilita già durante l'evoluzione che però deve essere sempre sorvegliata allora solo per farvi vedere una diapositiva con tutte le copertine che Nature, Science, PNAS hanno dedicato ai microrganismi, al microbiota ma sono tantissime come vedete tutte quante intitolano il nostro secondo genoma e dicono il nostro microbiota controlla ripeto con dati spesso correlativi immunità, invecchiamento, metabolismo, obesità fino al comportamento ma non ci sono dubbi che la prima funzione quella su cui non ci sono diciamo molte discussioni da fare è che il microbiota controlla l'alimentazione ed è molto importante su questo vi faccio vedere proprio solo con una breve diapositiva un bellissimo lavoro che è stato uno dei primi fatti da una collega che lavora a Firenze Carlotta De Filippo e Carlotta che cosa ha studiato? ha studiato come il microbiota varia a seconda della dieta studiando delle comunità molto diverse dei bambini che vivono in un villaggio nel Burkina Faso in Africa dove quindi nei villaggi c'è ancora una tradizione una dieta assolutamente basata sulle tradizioni antiche quindi un uso di cereali che vengono e di legumi che vengono polverizzati in modo poi da fare delle sorte di pani e questo tipo di comunità di bambini confrontato con i bambini che vivono in una città del Burkina Faso e poi invece con i bambini che vivono a Firenze e le differenze sono straordinarie e quindi con l'unica diciamo somiglianza nelle prime fasi di vita quando in entrambi i tre gruppi i bambini vengono nutriti al seno e quindi in quel caso il microbiota è molto simile ma poi dopodiché la dieta ha veramente un ruolo fondamentale nel cambiare e nel dare la famosa impronta e in questa diapositiva che forse non è chiarissima ma che ho preso da un lavoro molto recente uscito qualche giorno fa quello che potete vedere è come effettivamente poi la produzione del microbiota cambia molto a seconda se abbiamo quindi una dieta ricca in vegetali, in fibre povera e in grassi animali sul lato sinistro e mentre invece contrapposto al lato destro una dieta ricca invece di grassi animali e allora vedete che in base quindi a tutto quello che è il processo metabolico che avviene anche proprio grazie alla presenza dei microrganismi che sono in grado di degradare tutta una serie di fibre e di polisaccaridi che arrivano ad esempio da una dieta vegetale e che noi non sappiamo degradare perché non abbiamo tutti gli enzimi adatti ecco che si attivano sia da una parte dei microrganismi sia una serie di attività metaboliche molto positive che sono ad esempio l'attivazione e la produzione di tutti questi acidi grassi a catena corta che portano quindi a una reazione molto positiva delle nostre cellule intestinali mentre invece l'opposto avviene quando c'è una dieta prevalentemente ricca di acidi grassi dove quindi i microrganismi svolgono un ruolo differente ne sono selezionati appunti alcuni che sono poi correlati con delle malattie metaboliche che portano degli stati di infiammazione come vedete quindi in questo ingrandimento che vi fa vedere quindi che cosa succede da una parte quando diciamo la flora microbica è positiva che quindi produce una notevole quantità di muco vi ricordate da quello che vi dicevo che è proprio un dato strutturale molto importante che quindi determinate comunità microbiche stimolano la produzione di muco che quindi fa una sorta di velo protettivo delle cellule epiteliali mentre invece dall'altra parte questo porta a una diminuzione della secrezione di muco che quindi permette anche poi proprio dei processi di colonizzazione da parte dei batteri delle cellule interne stimolando quindi dei processi di infiammazione per cui in realtà la dieta sicuramente è molto importante e un ultimo commento che ho trovato interessante che proprio ritornando al discorso ma dieta ed evoluzione è stato interessante studiare il microbiota ad esempio delle grandi scimmie in cattività e che cosa si è visto? Si è visto che in realtà cambia già il microbiota di queste grandi scimmie a seconda se sono in cattività o se sono libere e quindi sembra che effettivamente la dieta che viene fornita alle grandi scimmie nei primati negli zoo ad esempio tenda a spostare il loro microbiota ad essere più simile al microbiota degli organismi animali e quindi l'idea è che veramente la dieta porta a una sorta di umanizzazione anche del microbiota quindi questo è un dato veramente interessante anche in termini evolutivi e un piccolo esempio ancora di quanto la dieta possa effettivamente essere sorprendente viene da questo lavoro molto complicato che è stato pubblicato su Nature nel 2010 quindi in realtà prima che si parlasse proprio e si avessero tutte le conoscenze sul microbiota ma è sempre un esempio molto interessante allora cosa vedete che fa questa signora? Sta mangiando un sushi dove il riso è avvolto da questa alga da questo nori bene che cosa hanno scoperto questi studiosi? Che in una determinata popolazione di giapponesi era presente un enzima questa porfirranasi che in realtà è stato veramente sorprendente è associato esclusivamente a dei batteri marini quindi l'idea era molto curiosa come facevano ad essere presente questo enzima che in realtà è associato diciamo è un marcatore di batteri marini allora le spiegazioni diciamo di nuovo molto correlative sono che questi batteri siano tranquillamente presenti e questo è vero sulle alghe nori che vengono usate per avvolgere il sushi e che quindi popolazioni giapponesi che mangiano il sushi da generazione e generazioni in realtà possono avere acquisito per trasferimento orizzontale questa determinata funzione ve la metto lì con punto interrogativo perché in realtà non ha poi mai avuto altre conferme però è interessante perché risponde abbastanza bene all'idea ma che noi siamo poi anche molto quello che mangiamo e quindi c'è effettivamente una correlazione di questo genere ma se a questo punto negli ultimi minuti di questa lezione passiamo a vedere che cosa succede nelle piante allora come vi ho già detto prima anche le piante hanno il loro microbiota e a me piace tanto dire che nessuna pianta è un'isola citando la poesia di John Donne e del 1600 questo poeta del 1600 che dice proprio nessuno di noi vive da solo ma anche nessuna pianta vive da solo le piante vivono all'interno di una complessa rete di interazioni non solo con le altre piante ma anche con altri organismi animali con funghi ma sicuramente con tantissimi microrganismi e di nuovo anche qui abbiamo studiato abbiamo capito negli anni che esiste una vera e propria geografia per il microbiota il microbiota delle foglie è diverso da quello delle radici che è diverso da quello dei semi che è diverso da quello dei fiori o dei frutti ma e anche qui le domande sono identiche a quelle che ci siamo poste per il microbiota umano ci dobbiamo chiedere ma chi c'è? che cosa potrebbe fare? ma che cosa fa veramente? ed ecco allora che se noi prendiamo una manciata di suolo oggi non l'ho presa con me ma vediamo questo suolo e vediamo di illuminarlo in qualche modo con delle tecniche che sono fondamentalmente delle tecniche basate sul DNA allora vediamo che il suolo che circonda le radici è pieno di microrganismi e quindi possiamo anche qui vedendo un lavoro che risale già ad alcuni anni fa capire come la pianta sia circondata da diversi microrganismi che non sono soltanto batteri ma sono funghi sono omiceti sono artropodi sono alghe e tra i batteri che cosa abbiamo? abbiamo di nuovo dei proteobatteri ma abbiamo moltissimo octinobatteri e poi ancora i firmicutes ma sicuramente i proteobatteri sono quelli che dominano nella rizosfera vale dire nella zona proprio stretta di suolo che circonda la radice e vi faccio vedere questa diapositiva un po' complessa ma interessante che cosa fa? confronta la radice e il suo microbiota di una pianta con quel famoso intestino apparato digerente che abbiamo visto prima e il suo microbiota e ci fa vedere le somiglianze e le differenze allora le funzioni sono fondamentalmente molto simili abbiamo fondamentalmente dei processi che sono simili acquisizione di nutrienti sviluppo cellulare difesa contro i microbi patogeni quindi sono esattamente le funzioni che abbiamo elencato in dettaglio prima per diciamo il microbiota del nostro apparato digerente ma la biodiversità quindi quando parliamo proprio di microbiota come diversità dei taxabatterici è notevolmente differente e questo perché? perché molto spesso le comunità microbiche del nostro intestino sono anaerobiche mentre invece quelle che vivono associate alle radici delle piante sono fondamentalmente aerobiche e solo per senza entrare nei dettagli vi faccio vedere un'analisi che abbiamo fatto nel nostro laboratorio appena pubblicato adesso un nostro postdoc Matteo Chialda e vediamo come abbiamo analizzato negli anni come variava il microbiota di riso che è estremamente interessante perché il riso passa da delle fasi di asciutta a delle fasi di immersione e abbiamo visto come il suo microbiota cambia moltissimo a seconda delle fasi di sviluppo quindi anche qui è esattamente un po' come abbiamo visto per l'uomo e le sue fasi vitali cambia a seconda delle fasi del ciclo di crescita e abbiamo anche capito meglio quelli che sono i fattori che influenzano il microbiota abbiamo visto come fondamentalmente c'è un ruolo cruciale del compartimento cioè quel famoso discorso della geografia i batteri che si trovano dentro la radice sono diversi da quelli che ci sono immediatamente alla superficie e quindi noi diciamo che la pianta fa da filtro perché seleziona in un certo modo i microrganismi che possono entrare all'interno e quindi il genotipo della pianta è sicuramente un fattore di controllo estremamente importante per cui possiamo concludere dicendo che sicuramente ci sono molti fattori che proprio determinano la composizione del microbiota di una pianta quindi i fattori ambientali che si incrociano col genotipo della pianta stessa come sempre abbiamo sempre un equilibrio tra i due fattori il fattore proprio del DNA dell'informazione genetica e come si incrocia con l'ambiente ma un altro punto che si sta studiando moltissimo in questo periodo e questa diapositiva è stata pubblicata proprio solo qualche mese fa è quello del chiederci esattamente se anche per le piante vale il discorso dell'evoluzione che abbiamo visto ricordate che vi ho fatto vedere come nell'uomo del ghiaccio Ozzli in realtà ci siano dei microrganismi che sono ancora presenti adesso bene cosa si fa la domanda è molto simile noi adesso abbiamo nei nostri campi fondamentalmente delle piante che derivano da un processo di breeding da un processo fatto dall'uomo che quindi ha fatto evolvere delle determinate varietà ma l'evoluzione qui è un'evoluzione fatta dall'uomo allora la domanda è ma queste piante che l'uomo coltiva che sono piante ad alta produttività hanno lo stesso microbiota della pianta antenata da cui è derivato e qui vi faccio vedere proprio solo una diapositiva di lavori molto belli che fa un collega un giovane collega italiano che si chiama Davide Bulgarelli che lavora in Scozia e che quindi lui segue proprio l'evoluzione ad esempio dell'orzo e quindi va a vedere quelle che sono le varietà ancora selvatiche e quindi studia come evolve il microbiota dalla pianta selvatica alla pianta che vive invece in un ambiente ad alto input di un'agricoltura ad alta resa oppure invece un'agricoltura più sostenibile dove l'impatto dei fertilizzanti o degli erbicidi è meno forte e anche qui che cosa emerge di nuovo emerge che c'è un cuore che viene conservato ma poi ci sono delle forti forti variabilità quindi anche qui abbiamo un concetto di evoluzione del microbiota anche per le piante quali sono le funzioni vi ho già detto sono esattamente quelle che abbiamo visto prima il microbiota fa tutta una serie di servizi che sono fondamentalmente dei servizi nutrizionali dei servizi legati alla produzione di composti antimicrobici antiossidanti regolato dagli essudati radicali ma fondamentalmente svolge un ruolo cruciale nel regolare le difese immunitarie della pianta quindi questo è un problema veramente molto importante molto complesso non sto a scendere nei dettagli ma se qualcuno di voi è interessato cioè di nuovo il plant microbiota ha la funzione proprio di alzare il livello di immunità della pianta e di difenderla quindi da dei potenziali patogeni quindi un momento di riflessione che cosa bisognerà capire meglio bisognerà mettere assieme tutta questa enorme quantità di dati che abbiamo chiamiamoli ecologici perché ci elencano la biodiversità con quelle che sono veramente le funzioni perché le funzioni si studiano in un laboratorio con un atteggiamento riduzionistico e quindi sarà proprio importante mettere assieme questi due campi del sapere che utilizzano proprio degli strumenti diversi da una parte abbiamo i big data dall'altra invece c'è il dato sperimentale che bisogna testare quindi su questo veramente mi piacerebbe avere un vostro commento e capire se proprio anche da un punto di vista metodologico vi sembra chiaro questo punto lo stesso discorso ma non entro nei particolari vale per il microbiota dei superorganismi questo è interessante pensate a un alveare pensate a un formicaio anche qui il discorso dei microbiota è veramente molto interessante ma vorrei terminare questa lezione un po' pesante con leggendovi quello che ha scritto Telmo Pivani sul concetto microbiota abbiamo organizzato un seminario sul microbiota dedicato proprio a studenti del liceo nel febbraio del 2019 a Roma e avevo chiesto appunto al professor Pivani che sapete è un grande esperto di evoluzione di fare una riflessione sull'evoluzione vista considerando il microbiota e quindi vorrei leggere con voi queste poche righe che mi sembrano molto interessanti e piene di spunti piante animali sono al contempo gli habitat e i veicoli di trasmissione verticale orizzontale del loro microbiota quindi sono olobionti vedete quella famosa parola che vi ho presentato all'inizio cioè la somma di un ospite macroscopico e di tutta la sua popolazione microbica in simbiosi questa somma però non è una giusta posizione ma una unità di organizzazione biologica coerente e dotata di sua fitness il patrimonio genetico complessivo di un olobionte è il suo ologenoma vale dire quel complesso che vi ho anche definito come microbioma ed è il frutto sia dell'interazione tra il genotipo dell'ospite e l'ambiente sia della relazione tra i genotipi interni e quelli dei microrganismi ovviamente cambia quindi l'idea di che cosa sia nell'evoluzione un individuo o un organismo singolo piante animali sono network biomolecolari entità poligenomiche quindi a una concezione dell'evoluzione esclusivamente focalizzato sul genoma individuale e sulle sue variazioni rischia di essere troppo povera forse il materiale variazionale a disposizione della selezione naturale genetica epigenetica è più ricco di quanto si pensasse e quindi l'idea è che probabilmente l'evoluzione potrebbe avere diciamo potrebbe aver agito anche considerando quindi il complesso del microbiota spero che quindi questa lezione un po' densa effettivamente ricca di molte novità che rappresentano veramente un po' dei cambiamenti in biologia proprio con dei cambi di paradigma anche in quelle che sono le basi come concetto dell'evoluzione possa aver avuto la vostra attenzione e un vostro interesse e aver offerto anche degli spunti per le lezioni in classe ho segnato quindi alcune delle review più recenti che sono uscite ma ce ne sono proprio tantissime ho riportato il video e ho poi anche segnato chi di voi sarà interessato sarò felice di mandare il pdf di questo volume proprio ad hoc che abbiamo pubblicato all'accademia dei lincei e quindi ancora grazie per la vostra attenzione speriamo quindi di trovarci in qualche modo per il momento di discussione e di riflessione assieme che sarà poi più tardi a febbraio buongiorno ancora grazie